È parecchio surreale se posso la situazione perché il calciomercato è chiuso in Italia così come all'estero però a Manchester c'è quello che c'è la fascia da capitano al braccio, Paul Pogba, che è praticamente un separato in casa ha litigato a più riprese con José Mourinho, ha fatto capire che lui al Manchester United con i Red Devils non ci vuole rimanere e che potrebbe cercare una sistemazione, non lo ha fatto solamente capire, non sono parole che ho interpretato io ma lui ha proprio detto oggi sono un giocatore del Manchester United, in futuro vedremo e se tu sei il capitano di una delle squadre più forti al mondo e qualcuno dirà eh ma secondo me sì però comunque rientra nella cerchia, di una delle squadre più blasonate al mondo e di una delle squadre economicamente parlando più forti al mondo non dico che non puoi pensare di andare altrove però non penso tu abbia la possibilità di dire in futuro vedremo perché sei già al top, se tu giochi in un diciamo in un Watford, in un Bournemouth, ma anche in un Fulham, in un Crystal Palace si può dire anche in un Everton, in un West Ham, ma per dire anche in un Tottenham che comunque in questo momento forse è più forte del Manchester United sulla carta però economicamente e parlando e comunque anche a livello di blasone non c'è storia ok? In quel caso magari tu puoi anche dirlo ma al Manchester United a meno che tu non stia veramente con l'acqua alla gola difficilmente parli di una cosa del genere ora perché si parla di Juventus? Perché la Juventus come sempre è molto interessata al profilo del giocatore giocatore che comunque a Torino c'è stato, che a Torino c'è cresciuto e che a Torino soprattutto ha trovato la sua forma ideale la Juventus è anche per le minestre riscaldate, lo abbiamo visto con il discorso Leonardo Bonucci se ci può guadagnare ci guadagna molto volentieri quindi Bonucci lo ha ripreso ma soprattutto ragazzi per chi non lo sapesse tra poco ci sarà la riunione tra la società Juventus quindi probabilmente rappresentata da Marotta e o Paradici poi staremo a vedere e la gente di Paul Pogba che niente meno è che Mino Raiola che è probabilmente la gente migliore, la gente più importante, più conosciuto al mondo ora voi direte allora è fatta, in realtà no, perché? Perché la Juventus e Raiola si vedono per un'altra ragione in rosa della Juventus c'è uno di, un giocatore di futuro certo, un giocatore fra le altre cose italiano di futuro certo sto parlando di Ken, Ken che quest'anno con l'Under 19 ha fatto benissimo, ha fatto veramente bene e è rimasto alla Juventus perché? Perché Raiola ha detto guarda io vorrei che Ken si allenasse con i campioni si allenasse con Douglas Costa, si allenasse con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con Higuain quindi si allenasse con vari campioni fino insomma ad imparare molte cose da loro, ok? e quindi la Juventus ha consentito però probabilmente a gennaio dopo essere salenato per sei mesi potrebbe andare a fare esperienza perché poi stare sei mesi fermo in panchina e pare proprio che con la concorrenza che ha davanti alla Juventus di strada, di possibilità di squarci per giocare qualche ispezione di gara non ne ha, potrebbe insomma andare a fare qualche minuto ad andare ad accumulare minutaggio altrove ora il discorso è semplicemente questo probabilmente essendo poi prima del mercato di gennaio Raiola e la Juventus parleranno anche di Pogba e Pogba pensa ancora alla Juventus per quanto trapela ora il discorso ribadisco è questo Giuseppe Muregno è comunque a rischio diciamo che è lì lì per essere cacciato ora ha vinto domenica, si è salvato un pochino la faccia ha salvato la panchina e poi insomma non è che stia andando poi così male perché è vero che ha perso con il Tottenham 0-3 in casa però è anche vero che se non sbaglio sei punti vincendo l'ultima di misura e poi anche 2-1 con il Leicester sei punti li ha portati a casa quindi insomma si parla ugualmente di un rendimento che ci sta affrontando anche il Tottenham ha fatto sei punti in tre partite ci può stare Muregno comunque non sta simpatico né ai dirigenti del Manchester United né ad alcuni giocatori specialmente i senatori o i più importanti del Manchester United per quanto trapela quindi a meno che Muregno non venga se Muregno viene esonerato prima di gennaio probabilmente Pogba rimane è capitano ragazzi è giocatore leader simbolo amato da tutti è una delle squadre più ambiziose e ribadisco più forti del mondo sotto quel punto di vista quindi è difficile che Pogba prenda e parta però se Muregno dovesse rimanere probabilmente sarebbe lo stesso Paul Pogba a chiedere la cessione e chissà che la Juventus non si getti sul francese per provare a portarlo a Torino fammi sapere la tua con un commento qua sotto ti invito come sempre clicca iscriviti iscriviti al canale iscriviti al canale mi raccomando iscriviti ti ringrazio per aver visto questo video vi lasciate un mi piace in caso di dare un dislike un buon ciallala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao